Adesso so chi sono e cosa voglio fare. Voglio che quest'anno sia... sia perfetto. Voglio che nulla me lo rovini. Sono pronta ad essere più grande. Perché sei passato a prendermi dalla festa così presto? Guardala in un altro modo. L'anno scorso non ti avrei lasciato andare alla festa. A vivere nuove emozioni. Oggi sono stata a una festa. È così strano ed emozionante uscire da sola. Ad affrontare nuove sfide. Però a lui mi manca. E tu? Che ne pensi? Vai nella community di Violetta. E raccontaci cosa succederà, secondo te, nella nuova stagione. Potresti vedere il tuo commento sull'episodio di Violetta. Tutto ricomincia con la nuova stagione di Violetta. Prossimamente sulla Disney Channel.